Karol Wojtyla. Voglio sapere tutto di lui. Questa croce l'avete innalzata voi. Operai di Nova Huta. Che ciò sia una lezione. Quest'uomo ci sta sfidando. Questa chiesa è con voi. Guai a quegli stati che riducono il popolo alla fame. Giovanni Paolo è morto dopo solo 33 giorni. Karol, un uomo diventato papa. Seconda e ultima parte, lunedì alle 20.55.